Continua la schiusa dei piccoli esemplari di Caretta Caretta presso il Lido La Gondola, nella frazione Torri di Mari a Pestum. 85 esemplari sono stati recuperati dalle guardie ecodofile di Fari Ambiente e poi liberati nelle acque antistanti. È un evento raro e fondamentale per il territorio, deve essere visto in termini di sensibilizzazione, di potenziali sensibilizzazione, cioè deve essere utilizzato per far capire alla gente quanto sia importante comportarsi in maniera responsabile dal punto di vista ambientale, utilizzare la spiaggia, godere la spiaggia senza distruggerla. Non è un indicatore diretto di qualità dell'acqua, quindi non può essere utilizzata per dire che l'acqua sia più o meno pulita. È sicuramente un campanello di interesse sulla spiaggia. Speriamo che ce ne siano altre, è la prima volta che viene riportata qui a Pestum, ne abbiamo quest'anno un altro ad Acciaroli. L'anno scorso ci sono state quattro nidificazioni, negli ultimi tre anni c'è la costante presenza della caretta caretta in campagna, potrebbe essere un indice dello spostamento della specie verso il Tirreno, zona che non viene quasi mai utilizzata per la nidificazione, e quindi una conseguenza del cambiamento climatico, oppure potrebbe essere un'evidenza della maggiore sensibilità dei bagnanti, che come vedono questi animali eccezionali sulla riva, contattano le autorità. E ricordiamoci che quella è la procedura corretta, chiunque avvisse una tartaruga deve contattare o il corpo della Capitanina di Porto locale, o se non conosce il numero basta chiamare il 1530, il 1530 attiva la catena di informazione per attivare i centri referenti locali, e quindi poter intervenire per la protezione delle tartarughe marine, stesso discorso vale per cetacei, delfini o balene. Caretta caretta è una tartaruga che eccezionalmente depone sulle nostre cosse, però dobbiamo dire che l'anno scorso ci sono state quattro deposizioni, quest'anno due, non sappiamo se ci sono delle carette carette che depongono e schiudono senza che noi lo sappiamo, ma è anche vero che c'è una sensibilità della popolazione di fronte a questo animale che sa significare che l'ambiente è un ambiente sano, che la costa è una costa interessante, idonea per la deposizione. Il Comune di Cavaccio rappresenta un evento eccezionale, ma lo è in realtà penso per tutto il Cilento e poi per la regione Campania. E mi spiego meglio, il progetto di monitoraggio delle presenze della tartaruga marina in Campania portata avanti dalla stazione zoologica Androndorno con il supporto della regione, degli enti locali coinvolti, rappresenta un unicum probabilmente nel panorama nazionale ed è uno dei più avanzati del Mediterraneo. Questo consente di individuare tutti i nidi o le schiuse che sul territorio avvengono. Naturalmente poterli monitorare tutti significa maggiore conoscenza e maggiore conoscenza significa maggiori possibilità di sopravvivenza per gli animali naturalmente e di tutelarli nel momento in cui devono arrivare al mare. La cosa rilevante in questo caso è che ha funzionato perfettamente la filiera istituzionale. I gestori del litro con grande sensibilità hanno immediatamente avvertito l'assessorato all'ambiente che reggo qui a Capaccio Pestum piuttosto che volontari di fare ambiente e poi abbiamo provveduto a mettere in sicurezza i primi animali ed avvertire i ricercatori della stazione zoologica e la Capitaneria di Porto. Il tutto ha consentito di mettere in salvo praticamente tutte le tartarughe nate e di monitorare il nido per questi primi due giorni. Ancora stasera ci sono state altre cinque liberazioni e attendiamo perché sospettiamo che ci possa essere qualche altra nascita. Quindi questo significa far funzionare un sistema e dimostrare che anche in Italia, nel bistrattato sud Italia, in particolare in Campania, le cose possono funzionare. Grazie. 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 Grazie a tutti.